Il Covid non ferma i concorsi al palo fioristico di Morbegno, 700 candidati da tutta Italia in corsa o per 32 posti di impiegato in ATS e ASST, negli auspici di tutti l'ambizione di conquistare il posto fisso. A sondalo il personale per ora fronteggia la nuova ondata di emergenza, il presidente degli infermieri Franzini, eravamo pronti ma la carenza di organico nei reparti Covid si fa sentire. Due esemplari di cervo abbattuti da due cacciatori sul monti di Livigno, le vittime, una mamma e il piccolo. La polizia provinciale li sorprende quando stanno caricando il cerviato sul fuoristrada. Appello degli allevatori valtellinesi ai consumatori, acquistate prodotti tipici della nostra terra per sostenere chi lavora nelle stalle sugli alpeggi. Per salvare il fatturato spunta la formula cena più per notto. Buonasera e ben trovati. In questo anno segnato dall'emergenza Covid-19 abbiamo toccato con mano l'importanza della sanità pubblica. Oggi a Morbegno si è svolto il primo atto del super concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 32 impiegati da parte di ATS e ASST, oltre 700 i candidati. Vediamo. 766 candidati per 32 posti a tempo indeterminato. Siamo al polo sciaristico di Morbegno. Questa mattina il concorso promosso da ATS della Montagna, ASST Baltinio Alto Lario, per 32 posti. Come amministrativi vedete appunto quanti sono i candidati in attesa, stanno entrando per sostenere la prova scritta. Ovviamente l'obiettivo è il fatidico posto fisso. Credo che arriviamo un po' da tutta Italia, noi arriviamo da Monza-Brianza, siamo 11 più non so quanti altri delle altre sezioni. 32, sì sì. Per amministrativi, giusto? Amministrativi, certo. Credevo di trovare meno persone, invece è molto importante questo concorso, essendo uno dei pochi concorsi a tempo indeterminato. Ed è una buona cosa che ATS, ASST si siano uniti per fare questo concorso, per dare la possibilità a tutti questi ragazzi giovani e non giovani come me, io di passaggio di livello, ma i ragazzi per un posto sicuro. Pensavo ci fosse un po' di meno. Un posto a tempo indeterminato? Sì. Una bella occasione? Certo, io lavoro già in ospedale, comunque è una bella occasione, sì. L'occasione è buona, vediamo come va, speriamo. Da dove arriva? Da Milano. Quindi partita presto questa mattina? Molto presto, sì sì sì, per arrivare in orario e cercare di vincere. Sono posti fissi? Sì esatto, quindi magari ti può dare anche una speranza in più in questo periodo qua, quindi perché non sfruttarlo. Lei da dove arriva? Da Ceto, Valcamonica. Ha visto che c'era questo concorso? Esatto, sì, ancora quando eravamo nel lockdown, questa primavera, a marzo, ha partecipato. Anche perché è una bella opportunità? Sì, beh, il posto fisso è invito da tutti, dunque speriamo vada bene. Da dove arriva? Ardenno. Quindi potrebbe essere un'ottima occasione, insomma, un posto di lavoro in valle? Sì, diciamo di sì. Al momento l'ospedale di Sondalo non vive una condizione di sofferenza rispetto all'aumento di ricoveri nei reparti Covid. Quando è iniziata la seconda ondata eravamo preparati, nonostante la carenza di personale, spiega il presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Sondrio, Giuseppe Franzini, in prima linea nella terapia intensiva del Morelli. Per far fronte alla nuova ondata di contagi da coronavirus, il personale sanitario della nostra provincia si è fatto trovare pronto. C'è una maggiore consapevolezza e una dotazione di dispositivi di protezione individuale adeguata per medici e infermieri. Nonostante la carenza di organico, non si registrano al momento situazioni di sofferenza dal punto di vista lavorativo, spiega Giuseppe Franzini, presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Sondrio, impegnato in prima linea nel reparto Covid-19 della terapia intensiva dell'ospedale Morelli di Sondalo. L'ospedale Morelli ci aspettavamo questa famigerata seconda ondata e va bene insomma l'abbiamo avuta. Anche se bisogna essere sinceri, rispetto al mese di marzo la situazione è un attimino migliore. Abbiamo meno pazienti nelle terapie intensive, si stanno incrementando i pazienti nelle parti Covid-19. Dal punto di vista dell'organico siete a regime per far fronte a questa seconda ondata? Allora, per quanto riguarda gli aspetti intensivi, diciamo che come numeri dal punto di vista infermieristico in questo momento non siamo in sofferenza. Credo un attimino di più nelle parti Covid dove purtroppo la carenza infermieristica si fa sentire anche a Sondalo. In questo momento ci si è avvalsi di contratti co-co-co, diciamo così, per recuperare, reclutare nuovi nuovi infermieri, in attesa di avere la possibilità anche per la Valtellina di reclutare personale infermieristico anche se non è facile. Non è facile perché la carenza c'è in tutta Italia sicuramente. Secondo lei ci siamo fatti trovare preparati o impreparati a questa seconda ondata? Eravamo preparati come terapia intensiva, eravamo preparati come reparti Covid, diciamo che l'unico problema, come abbiamo detto prima, è forse la carenza di personale infermieristico, ma mi viene anche a dire purtroppo anche di personale medico, perché comunque anche a livello di terapia intensiva i rianimatori anestesisti purtroppo non sono tantissimi e questo non è solo un problema nostro, valtellinese, ma anche qui il problema è un po' di tutta la nazione, ma lo sentiamo anche noi in Valtellina sicuramente. Rafforzata da ATS della Montagna, la rete del personale USCA impegnato a garantire assistenza a pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Da lunedì scorso l'ha addoppiata le unità speciali di continuità assistenziale con due medici, uno destinato all'area Sondrio-Alta Valle e l'altro per la copertura della zona a Sondrio-Bassavalle. Dal 1 novembre sarilanno a tre gli specialisti con sede a Sondrio che si occuperanno del distretto Valtellina-Alto Lario. Solo a ottobre il personale sanitario USCA ha effettuato 151 uscite, 31 nel Bormiese, 109 nel Sondriese e 11 in Valcamonica. Da aprile a settembre le unità speciali sono state attivate 436 volte. Il servizio riservato ai pazienti che necessitano di visita a domiciliare o eventualmente di tampone può essere attivato solo su segnalazione del medico di medicina generale. Buone notizie anche per quanto riguarda il potenziamento del servizio di continuità assistenziale. Dalle 8 del 1 novembre verranno riattivate H24, le postazioni di chiesa in Valmalenco e di Sondalo. Per contattare il servizio è necessario telefonare al numero unico 116 117. Denunciati a Livigno due cacciatori accusati di aver abbattuto un cervo femmina e il suo cerbiatto. L'operazione è condotta dagli agenti della Polizia Provinciale. Il nuovo comandante del Corpo Emanuele Pasini spiega l'attività anti-bracconaggio sarà tra le mie priorità. Vediamo. La nostra azione è volta prioritariamente al controllo dell'anti-bracconaggio con operazioni di gran lunga rilevanti sotto profilo qualitativo. Il nuovo comandante della Polizia Provinciale di Sondri Emanuele Pasini illustra le priorità del suo comando che punta al contrasto dell'attività di bracconaggio e salvaguardia della fauna protetta proprio alla luce dell'ultima brillante operazione portata a termine a Livigno dai suoi uomini e dai carabinieri. Denunciati a piede libero due cacciatori accusati di aver abbattuto due cervi, una femmina adulta e il suo cerbiatto. L'attività ha portato al fermo di uno fuoristrada con a bordo i due indagati che avevano appena caricato il cerbiatto abbattuto da poco. Grazie al supporto di un conduttore con cane da traccia si è riuscita ad individuare poco distante la carcassa della cerva allattante. Da qui la denuncia a piede libero per bracconaggio con l'aggravante di aver abbattuto i due angulati illuminandoli con i fari del veicolo sparando dalla pubblica via in prossimità di abitazioni. L'attività di indagine è stata volta in un servizio turno di controllo quindi sono stati segnalati alle autorità preposte delle persone che hanno violato secondo il nostro punto di vista delle disposizioni. Il nuovo comandante Emanuele Pasini, 47 anni della Val Chiavenna, raccoglie così il testimone di Graziano Simonini per anni alla guida delle guardie venatorie della provincia e ora in pensione. Pasini dal 99 al 2002 è stato consulente dell'amministrazione provinciale durante la presidenza Tarabini, quindi da 18 anni ha assunto l'incarico di funzionari occupandosi delle aree affari istituzionali, formazione professionale, politiche sociali. Polizia Provinciale ha sicuramente la missione di svolgere opportune iniziative anti-bracconaggio e di un controllo mirato di tutto l'esercizio venatorio e ittico. Il corpo è strutturato con 11 valenti collaboratori che onestamente sotto profilo del numerico si rileva una notevole esiguità, basti pensare che sono più di 3200 chilometri quadrati, quindi il territorio è molto vasto. Una carenza che cercherà di colmare? Sicuramente, io attiverò prontamente col Presidente per rappresentare queste esigenze come sanno tutti i miei uomini. Riaperti oggi al transito il versante Lombardo del Passo dello Stelvio, già chiuso per l'inverno sul versante Alto Atesino e il Passo Umbrail, gioco di Santa Maria. Per entrambi la chiusura definitiva per la stagione invernale scatterà alle 16 del 6 novembre, ancora aperta la Forcola, percorribili con cautela lo Spluga e il Mortirolo. La provincia di Sondria ha già disposto con ordinanza la chiusura dei passi Gavia della località Plaghera e San Marco dal Bivio Alpe Piazza. Alivigno invece fino al 30 novembre è chiuso per opere di manutenzione il tunnel Munt-Laschera Passo del Gallo. Le strategie dei sindaci dell'Alta Valle e del Comitato in difesa dell'ospedale di Sondalo hanno imboccato strade diverse. Gli amministratori rilanciano il loro sollecito alla regione ma tengono vivo il confronto istituzionale. Dal Comitato Pradella li accusa di incoerenza. Ogni mediazione dice sarà inutile. L'emergenza Covid non spegne le diatribe sul futuro del Morelli. Bersaglio del Comitato per la difesa dell'ospedale di Sondalo ora sono i sindaci dell'Alta Valle, i quali due giorni fa con i vertici della comunità montana hanno scritto alla regione per sollecitare la formale ratifica della proposta avanzata il mese scorso, ovvero la sospensione per sei mesi del trasferimento definitivo a Sondrio delle tre alte specialità, chirurgia toracica, vascolare e neurochirurgia e il loro ripristino a Sondalo Covid permettendo. Il punto è qui, se la nuova ondata epidemica dovesse protrarsi, scrivono i sindaci, la mancanza di una proposta formale rischierebbe di vanificare il nostro lavoro nella ricerca di forme gestionali alternative con potenziali soggetti terzi volte a garantire al Morelli il prosieguo della piena attività ospedaliera. A tal fine i sindaci rilanciano l'opportunità di attrezzare il sesto padiglione in parte ristrutturato ma attualmente chiuso, destinandolo a reparto Covid, così da evitare la promiscuità con altre specialità mediche e da non ostacolare il ripristino delle tre unità chirurgiche. L'ospedale potrebbe avere in questo modo le sue strutture permanenti dedicate ai pazienti infettivi e al tempo stesso mantenere un'offerta sanitaria completa per i cittadini. Lettera dal contenuto per nulla chiaro, attacca il referente scientifico del comitato, io sto con il Morelli Giuliano Pradella, che definisce opportuna, anche se tardiva, l'insistenza nell'utilizzo del sesto padiglione. Era già contenuta nel mio documento di maggio, dichiara il medico, che invita i sindaci a riflettere prima di accettare soluzioni non sostenibili. Il reintegro delle tre alte specialità al Morelli, secondo Pradella, infatti non è più sufficiente per la tenuta del presidio, in quanto il suo depotenziamento è andato avanti giorno dopo giorno. Insomma serve una approfondita valutazione tecnica di cui i sindaci non sarebbero all'altezza. Hanno nuovi consulenti dopo aver di fatto escluso i comitati scientifico e giuridico pro Morelli, chiede Pradella, lo dichiarino. Altrimenti ho seri dubbi che siano in grado di portare avanti trattative così complesse. Pradella inoltre accusa gli amministratori di sconfessare con un cambio di linea il lavoro di quasi un anno. Per salvare il Morelli, ribadisce lo storico primario, la formula è o tutto o niente, ogni formula intermedia si rivelerà fallimentare. Quello di Pradella è un grido d'allarme che condivido, dichiara Ezio Trabucchi del pool giuridico. La nuova strada, intrapresa dai sindaci dell'Alta Valle, dichiara l'avvocato, non va nella direzione giusta. Dopo l'emergenza Covid, il Morelli è destinato a essere un ospedalino di zona, ma anche per Sondrio il futuro è tutt'altro che roseo. Confindustria Lecco Sondrio conferma la vicinanza ai territori con la donazione di apparecchiatura agli ospedali di Lecco e Sondolo per la cura dei malati Covid-19. Diamo il nostro aiuto al contrasto della diffusione della pandemia, dice il presidente Riva, per le imprese insostenibili, un nuovo lockdown. Importante gesto di generosità e di solidarietà da parte di Confindustria Lecco e Sondrio che in questo momento ha dimostrato di stare vicino ai territori e in particolare agli ospedali di Lecco e di Sondolo con un'importante donazione di macchinari. Di cosa si tratta? Si tratta di 10 respiratori per l'ospedale Manzoni di Lecco, 5 respiratori più 5 monitor per l'ospedale di Sondolo. Questa è la donazione, è stata fatta da Confindustria Lecco Sondrio per dare un esempio di vicinanza come hanno fatto anche tanti altri operatori, non siamo solo noi perché le donazioni sono state tantissime e molto ampie, però noi volevamo fare un qualcosa veramente di utile e di necessario in un momento drammatico per le nostre province. Purtroppo poi i tempi si sono molto allungati perché voi immaginate che noi questa donazione l'avevamo preparata, programmata e ci avevano assicurato che doveva venire nei mesi di marzo inizio aprile. Purtroppo poi i tempi si sono allungati però noi non abbiamo, nonostante tante volte la società fornitrice ci abbia chiesto se volevamo rinunciare all'ordine e noi abbiamo detto no, non vogliamo rinunciare a nessun ordine perché noi siamo convinti che questo sia un valore importante da dare alle nostre due province dimostrando che Confindustria è veramente al fianco di tutta la cittadinanza e di tutte le persone, non solo quelli che vengono nelle nostre aziende. Se ci dovesse essere un altro lockdown totale quindi con la chiusura delle aziende il paese sarebbe in ginocchio? Sarebbe una cosa impensabile e impossibile. Dobbiamo difendere innanzitutto le aziende, dobbiamo difendere i luoghi produttivi perché sono la necessità vera di questo paese e ricordiamo che all'interno delle nostre fabbriche non ci si ammala, dobbiamo stare attenti all'esterno perché all'interno delle nostre fabbriche abbiamo le distanze, abbiamo la prova della febbre, abbiamo le mascherine, abbiamo i guanti, abbiamo gli occhiali, abbiamo tutte le cose necessarie, sanifichiamo, dobbiamo stare attenti nel momento che usciamo. Anche questo difficile 2020, contrassegnato dalla pandemia, l'allevamento non si è mai fermato. Nelle stalle e sugli alpeggi si lavora dall'alba al tramonto. In questa fase spiegano gli allevatori, è importante il sostegno della gente. Acquistando prodotti locali si aiuta la nostra economia. Vediamo. La sveglia all'alba, le due mungiture, il lavoro in stalla. Anche in questo difficile 2020, segnato dalla pandemia, gli allevatori non si sono fermati. L'allevamento non si è mai fermato. Come ben sapete, le mucche devono essere munte sempre due volte al giorno. Loro producono latte comunque tutti i giorni, che viene poi lavorato in caseificio. Con il nuovo DPCM purtroppo noi non possiamo essere come una fabbrica, non possiamo fermare la produzione. Dobbiamo sempre andare avanti. E una cosa molto importante da ricordare ai telespettatori è che comunque adesso, forse più di prima, nel momento in cui si va a fare la spesa, bisogna sempre tenere presente che ci sono i piccoli produttori, piuttosto che le aziende un po' più grandi, che continuano a produrre, continuano a fare i loro prodotti. E nel carrello forse è il momento giusto per mettere i prodotti del nostro territorio o i prodotti comunque italiani. C'è avuto anche il turismo? Assolutamente sì. Tutti gli operatori del settore, con le nuove norme che sono uscite, hanno sempre fatto di tutto per adattarsi. Hanno fatto tutte le migliorie che erano necessarie per quanto riguarda la pulizia, l'igienizzazione. Hanno investito nella formazione dei dipendenti, in modo tale da garantire sicurezza assoluta al cliente che entra in una struttura che può essere alberghiera, piuttosto che in un bar o in un ristorante. Questa è la stagione delle foglie morte, ma stagione che non è però morta dal punto di vista turistico. Abbiamo comunque le prenotazioni che continuano ad arrivare anche questa settimana per il weekend. Garantiamo assolutamente la sicurezza e la sanificazione degli ambienti, noi come tutti gli operatori del settore valtellinesi. Rispetta la regola anticontagio, allo stesso tempo mettere in campo tutte le possibili strategie per mantenere il legame con i propri clienti. C'è chi ha abbinato ad esempio la ristorazione al pernottamento. Si chiama Foodie Room, sarebbe il soggiorno di una notte da noi con un menù gourmet ideato da Gianni Tarabini, che potete tranquillamente consumare al nostro ristorante. Abbiamo attivato anche un servizio di asporto per i nostri piatti. Abbiamo inoltre riattivato il servizio di consegna a domicilio dei nostri prodotti per i comuni che vanno da Ardenno a Colico. Abbiamo ovviamente ancora il nostro servizio di shop online. Se non potete venire voi da noi, veniamo noi da voi. Appuntamento su Unica Sondrio questa sera alle 19.45 e domani alle 21.20 con il settimanale di approfondimento di Unica, il telescopio. Ospite in studio per fare il punto della situazione Covid, il prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello. Stasera alle 21.20 e sabato alle 19.45. Non perdetevi itinerari che ci porta in Engadina da San Moriz a Pontresina, passando dalla Capanna a Segantini. Era l'ultima notizia. Vi ricordo che potete seguire Teleunica anche sui social. Grazie di cuore per essere stati con noi. A tutti voi buona serata. Grazie.